Ed eccoci qua, eccoci qua con il presidente del Maritime Augusta, Giuseppe Ciccarello. E allora, la festa prima dell'altra festa, no presidente? Sì, sì, diciamo la partita prima della festa. La partita con il Barletta poteva sembrare una partita scontata. In realtà non l'estate, se visto nel primo tempo, nei primi 15 minuti, il Barletta è un'ottima squadra che gioca un buon calcio a 5 e se l'è giocata, se l'è giocata alla pari. Poi la maggiore qualità dei nostri ragazzi ha avuto la meglio, il risultato è rotondo, molto rotondo. Però una gran partita, una bella partita. Anche il pubblico di Augusta si sta abituando a questi spettacoli e speriamo che possano continuare. Maritime, ricordiamo, a punteggio pieno nel campionato nazionale di Serie A2 Girone B, ma dietro di noi c'è uno stand che dice tutto. Parla da solo, oggi è anche la giornata di Falcao. Quanto è importante averlo portato qui? Allora, per noi è importantissimo, fondamentalmente è un'emozione incredibile. A questa cosa ci abbiamo lavorato per sei mesi. Sei mesi, alla fine ci siamo riusciti a portare Falcao in un evento show ad Augusta, e Augusta per una volta diventa la capitale mondiale del calcio a 5, è un'emozione unica. Siamo riusciti a portarlo qui e questa sera sarà una festa. Ma ancora più importante è la partnership, la collaborazione che siamo riusciti a fare con Falcao e con il Magnus, squadra per la quale lui gioca, in termini di scambi bidirezionali di formazione dei ragazzi. Infatti due ragazzi per volta, per sei mesi al massimo, per periodi di sei mesi, potranno accedere ai metodi di allenamento direttamente in Brasile della scuola calcio di Falcao e quindi poter crescere, poter accrescere il loro bagaglio tecnico. Allo stesso modo noi avremo la prelazione sui ragazzi del Magnus prima che essi vengono messi sul mercato per tutte le altre squadre. Ecco il Magnus di Sorocaba dove gioca anche Leandrolino, oggi parteciperà a questo grande evento. Due giocatori della Sele Sao, o meglio, Falcao ha dato l'addio alla Sele Sao, Leandrolino è nel giro della nazionale brasiliana. Quanto è importante invece per i giovani che vanno a vedere questo campione? Perché i giovani un po' cresciuti lo conoscono, perché è il punto di riferimento del futsal. Altri invece lo conoscono meno, ma è comunque conosciuto Falcao. Sì, molto conosciuto. Tra i giovani, tra virgolette, della nostra età, della mia età, tu sei molto più giovane, la curiosità di vedere Falcao dal vivo è enorme, l'emozione di vederlo dal vivo. Tra quelli più piccoletti, tra i ragazzini, tra tutti i ragazzi della scuola calcio che hanno visto le immagini in televisione, comunque in rete, in internet, riuscire a vedere un campione dal vivo è un'emozione unica anche per loro. Tant'è che le richieste di accredito, le richieste di poter assistere allo spettacolo sono state tantissime, veramente, veramente tante. Probabilmente una data sola ad Augusta è stata riduttiva, però abbiamo organizzato così. Domani saremo a Malta e poi in futuro si vedrà. Ecco, c'era grande emozione anche per i ragazzi del Maritime, no? Assolutamente sì. Tutti i ragazzi, alcuni di loro, si sono alzati questa mattina presto per andare in aeroporto, addirittura a fare le accoglienze in aeroporto perché per tutti, anche per i ragazzi che giocano, Falcao è un'icona del futsal mondiale. Riuscire a vederlo, a farsi una foto, addirittura per loro, riuscire a fare una partita con Falcao, anche se è uno show, comunque è una partita, è un motivo di emozione e di orgoglio. Emozione che però non ha influenzato il risultato finale, ricordiamo 9-1 tra Maritime, Augusta e Cristian Barletta. In ottica campionato, cosa cambia con questo risultato? No, non cambia nulla. Per noi le partite vanno giocate una per una, dobbiamo provare a vincerle tutte, finora c'è riuscita, c'è riuscita anche abbastanza bene. Obiettivo dichiarato fin dall'inizio della stagione è quello di vincere il campionato, tra l'altro il roster messo a disposizione dei mister è un roster di primissima fascia. Vincere il campionato, vincere la Coppa Italia e provare a far bene anche in Coppa di Divisione dove ci confronteremo con compagini di Serie A1. La domanda è un po' maliziosa, in chiusura il futuro affiancato al nome di Falcao oppure si viaggia troppo con la mente? No, no, si viaggia con la mente. Falcao è un atleta che sicuramente ha dato tanto a questo sport e non credo che ormai si leghi delle società per fare un campionato intero a parte il Magnus con la quale lui gioca ormai da parecchi anni. Con lui abbiamo un contratto di collaborazione per diverse manifestazioni show che faremo già a febbraio, saremo tra Helsinki, Oslo e Copenhagen a aprile negli Emirati Arabi tra Doha e Dubai e successivamente prima dell'estate a giugno probabilmente andremo in Cina. Quindi Falcao per noi è un motivo di orgoglio e di mezzo di comunicazione e di diffusione di questo sport. Grazie a tutti.